Parliamo di pressatura, parliamo di Vicon, parliamo di praticità e se parliamo di praticità dobbiamo assolutamente parlare del nostro esclusivo sistema di legatura Powerbind, l'iniezione diretta della rete in camera. Questo sistema vi garantirà una grandissima produttività. Pensate, solo un minuto a balla prodotta, 60 balle ora. L'altezza importantissima per garantirvi la sicurezza, un metro e trenta da terra, quindi anche con rotoli molto pesanti sarà molto semplice caricare il rotolo nel sistema di legatura. Vicon, my way of farming.